Sono fotografie da un fortissimo impatto emotivo quelle esposte a Palazzo Ducale nell'ambito di Fotolux. Emigrazioni è una complessa mostra collettiva transmediale e multimediale che attraverso una selezione di fotografie, video, installazioni, dipinti e sculture approfondisce uno dei temi più dibattuti degli ultimi anni e sicuramente centrale nella storia recente del bacino del Mediterraneo. In occasione della visita di Gian Battista Chiarelli, responsabile dell'asset management del gruppo bancario PICTE, sponsor ufficiale della manifestazione, il direttore del festival Enrico Stefanelli ha organizzato una visita guidata alla mostra. In particolare la sala dove è stata allestita la proiezione del lavoro del vincitore della settima edizione del PICTE, il premio internazionale della fotografia per la sostenibilità ambientale promosso proprio dal gruppo bancario. Richard Moss con la serie Hit Maps ha realizzato una profonda rappresentazione della crisi dei migranti in Europa, Medio Oriente e Nord Africa, dove guerre, persecuzioni e cambiamenti climatici hanno provocato una crisi globale e prodotto la più grande migrazione dai tempi della seconda guerra mondiale. Le immagini sono realizzate con una fotocamera termica militare capace di scattare ad alta risoluzione ad oltre 30 chilometri di distanza, un apparecchio potente pensato per le osservazioni nel deserto, non per lo storytelling né per l'arte. L'intento di Moss è quello di utilizzare la tecnologia contro se stessa per creare un cortocircuito immersivo che invita lo spettatore a riflettere sulle difficoltà e sulla fine spesso tragica dei viaggi compiuti dai migranti.